nft benvenuti in kiwi benvenuti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti o oggi ragazzi vi voglio svelare un piccolo segreto un più segreto una piccola cosa che è successa pochi giorni fa diciamo quindi pochi giorni fa dal penultimo video credo che ve lo dico dopo che vi siete iscritti al canale attivata campanella mettete like commentate va tutte le cose che dovete fare sempre quindi daglie e dicevo che ragazzi sono entrato nel mondo degli nft con più di un anno di ritardo però vabbè io arrivo sempre in ritardo alle cose e vabbè questo questo è quindi sono entrato nel mondo degli nft cioè not fungible token che sarebbe tipo una cosa artistica tra virgolette artistica virtuale che si vendono in poche parole si vendono e si creano opere virtuali che possono essere immagini canzoni musiche gif così virtuali inedite soprattutto inedito ovviamente e quindi diciamo io ne ho create alcune diciamo alcune molto molto strane ne ho già create tre ora ve le faccio ve le farò andare a vedere e le pubblicherò altre due o tre vediamo quello che quello che riesco a trovare altre due o tre cose si pubblicherò ora mentre stiamo con voi vi faccio vedere perché è un mondo abbastanza particolare un mondo bella cosa bella simpatica diciamo quindi anche perché per tirare su qualche altro soldino extra che non fanno male diciamo quindi buttiamoci nel mondo degli nft a creare roba così roba un po strana e quindi ora vi faccio andare a vedere come com'è la situa diciamo apriamo open sea diciamo che è il percorso dove 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 pubblichi tutte le cose dove pubblichi tutte le cose del che fai di nft diciamo allora andiamo qua su popular password oddio non ricordo la password ok siamo dentro quindi questo è il mio profilo di nft allora mo vi faccio vedere quelli che ho già fatto che ne ho già fatti tre ne ho fatti quindi potete vedere item 3 infatti settembre di nuovo e 22 quindi adesso cioè qualche giorno fa li ho fatti prezzo a 0,2 ethereum perché qua la moneta di scambio può essere ethereum bitcoin però ho scelto ethereum perché dovrebbe essere una delle più quotate una delle più migliori monete diciamo quindi 0,2 ethereum sarebbero all'incirca 230 dollari 230 euro più o meno è occhio e croce si raga non mori prossimi che vado a pubblicare se ve va faccio un prezzo un po più abbordabile diciamo così magari se qualcuno di voi o vuole suo pia magari mettiamo anche un'asta mettiamo magari magari c'è sta nasta che che va diciamo non lo so se proviamo adesso proviamo quindi come potete vedere ho fatto pep box little jumpy e super fulli questi che sono sono tre cani ho scelto fatto una cosa così fa sono tre cani del futuro usando quel video dell'altra volta di mid journey però non si dice a nessuno ho usato le parole le parole come 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 cosa per creare queste immagini girata così vabbè quindi ho creato sto super fulli diciamo e si possono mettere anche tante tante opzioni come vedete 0,2 quindi 263 dollari o anche aumentato l'altra volta stava 230 stava quindi buono quindi diciamo come cosa vedete si può mettere tante tante cose credo lo so super fulli vedi questo è super fulli ve lo faccio vedere questo è little jumpy un piccolo cagnolino volante vedi little jumpy un piccolo yorkshire che ha sviluppato la capacità di volare con le zampe posteriori ma che mostro è questo invece queste pep box pep box che fa pep box pep box invece è un piccolo cane che ha sviluppato la capacità di guardare con i raggi x attraverso gli oggetti vedi quindi questo può vedere anche attraverso gli oggetti ma che me so fumato vabbè quindi andiamo qua new item e creiamo una nuova immagine allora io ho fatto precedentemente ho fatto una gif diciamo fatto una gif e questa è una gif che si 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 muove diciamo così con tipo un razzo che sta muovendo poi andiamo su preview un'immagine facciamo questa mettiamo e mettiamo scriviamo razzo in partenza per marte che ci sto perché de sto periodo ci sta razzo in partenza per marte poi poi il link mettiamo il link del mio canale poi il link del mio canale che magari una pubblicità fa sempre comodo e facciamo la descrizione allora facciamo razzo in partenza per marte con i primi con i primi colonizzatori 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 all'interno così punto poi proprietà possiamo mettere proprietà carattere beh questo non in questa parte non ci interessa diciamo carattere vedi possiamo mettere proprietà livelli se vogliamo fare dei giochi di carte tipo quelli con i cani ho messo tipo livelli ho fatto magari fare anche altri animali con dei livelli così uno perché deve essere uno e unico e lo creiamo ok non sono un robot i ponti un ponte due e tre ci sta tre ponti giusto verifica si è che è stato creato ok quindi che facciamo lo posso possiamo scegliere se metterlo in vendita oppure possiamo scegliere se metterlo al si poterlo così o gratuito però io lo metto in vendita lo mettiamo vedete come si muove è un loop perché è una gif quindi mettiamolo in vendita possiamo scegliere questo se metterlo in vendita semplicemente oppure in come si dice in all'asta diciamo questa volta mettiamolo all'asta così magari prossimo video di lunedì prossimo o qualche settimana prossima vi faccio vedere l'asta quanto quanto è quindi è il bidder si va ok amount 1.9 va così vabbè raga partiamo partita l'asta diciamo è partita l'asta e complete listing vedi sta 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 pubblicando sta pubblicando l'asta e sarebbe partita da questo momento l'asta quindi scendiamo giù firmiamo ed è entrata ok e questo è una ne abbiamo messo un'asta poi andiamo su my collection e vi faccio vedere che questo sta questo qua in asta poi pubblichiamo un'altra cosa così per farvi vedere add item allora pubblichiamo un video che è questo qui è in effetti guerriero vedi si sente pure la l'effetto sonoro vedi vabbè immagine immagine di di pre di pre 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 cyberpunk 2077 vabbè anzi facciamo 2177 aumentiamo proprio vabbè mettiamo sempre il nostro solito link di youtube e scriviamo guerriere guerriera sbagliato guerriero guerriera 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 mamma mia guerriere guerriera cyberpunk quindi sto proprio a scrivere merda guerriera cyberpunk che lotta per la per la sopravvivenza umana contro alieni contro alieni che vogliono invadere il pianeta terra così eh ci sta così proprio una fantasia proprio che te di che te di qua fa carattere carattere scriviamo guerriera name un nome un nome chiediamogli un nome scriviamo così cyber lolly eh così proprio così messa al volo la nostra cyber lolly che è una guerriera cyberpunk che fantasia vabbè livello non ci interessa vogliamo metterci un livello ma non ci interessa sì perché magari ne voglio falto ma stiazzi ragazzi quindi va bene così va bene creiamo creato ok non sono un robot taxi 1 2 3 buio non ne vedo altri ok dovrebbe essere andato ok quindi vendiamo questo video perché questo vendiamo questo video fizziamo un prezzo alla modica somma di due che dite ma si raga facciamo proprio i sboroni ma chi sopia vabbè facciamo proprio i sboroni perché è un video facciamo due ethereum quindi 2600 dollari ma chi si vede vabbè vedi a restare qui per sacco di tempo vabbè andiamo avanti andiamo avanti per due dollari durata perché un mese durata sei mesi abbi la vendita deve durare sei mesi metti in media per sei mesi poi lo rinnoverò vabbè 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 complete listening poi qua andiamo vediamo qua andiamo a firmare qua sotto firma ok a posto ragazzi e la nostra cyberpunk cyber lolly e in vendita ok andiamo su my collection e quindi mo vi faccio vedere le collezioni allora come avete visto questa è l'immagine sono tre immagini questa è una gif che sta così in all'asta quindi se volete partecipare all'asta vi metto il link bo del mio profilo qua e andate sull'asta e partecipate ma chi sei fia vabbè proviamo così e poi la nostra cyber lolly alla modica somma di due ethereum vabbè ragazzi e quindi quindi ragazzi questo è questo è quanto vabbè quindi ragazzi avete visto sono entrato nel mondo degli nft e noi man mano se seguite se mi seguite anche su instagram se c'è qualche novità su questo coso qua di nft se c'è qualche pazzo che si compra qualche cosa mia ve lo ve lo farò sapere nei video nelle storie di instagram quindi ragazzi mi raccomando seguitemi anche da lì noi invece ragazzi ci vediamo a un prossimo video non so ancora quale ma ci sarà shockerìììì